salve in questo video parliamo di immagini hdr per capire le immagini ad alto range dinamico dobbiamo prima soffermarci sul concetto di limite del bianco e del nero considerate il mondo reale con le sue infinite variazioni di colori anzi è più corretto parlare della sola luminanza nell'esempio che faremo perché è più semplice la vista umana ne sarà un suo sotto insieme per quanto grande esso possa essere l'occhio arriverà in casi particolari a non poter vedere dettagli nel bianco oppure nelle ombre nere la ripresa con macchine fotografiche e video camere poi sarà ancora un sotto insieme molto limitato a giorni nostri della capacità di visione dei nostri occhi e infine la riproduzione su schermo sarà ancora più limitata della ripresa anche se speriamo non di molto si parla di latitudine di posa o range dinamico o gamma dinamica per indicare i limiti del bianco e del nero che si possono ottenere con un dato dispositivo il quale nasce da queste limitazioni ad un certo punto il bianco puro nasconderà tutti i dettagli che contiene allo stesso modo le ombre nasconderanno nel nero tutti i dettagli che contengono abbiamo un vero e proprio intervallo limitato misurato in valori esposizione detti anche f stop oppure ev l'esempio più classico è una ripresa dentro una stanza in penombra in cui compare anche una finestra che apre su un cielo soleggiato la finestra risulterà bruciata cioè bianco puro e non si vedranno nuvole o aerei di passaggio o altri dettagli le ombre interne alla stanza invece risulteranno chiuse cioè neri puri e non si vedranno i dettagli dell'arredo quello che possiamo fare è scegliere un esposizione in f stop adatta a vedere i dettagli nelle ombre perdendo però i dettagli nella finestra luminosa oppure esporre per le luci del cielo perdendo però i dettagli nelle ombre infatti il range della latitudine di posa resta sempre lo stesso caratteristico di ogni sensore lo possiamo solo far scivolare all'estremo del nero per aprire le ombre o all'estremo del bianco per aprire le alte luci oppure possiamo scegliere un compromesso fra i due estremi ma sempre nel limite dello stesso intervallo della gamma dinamica una possibile soluzione è quella di fare più riprese con diverse esposizioni e poi in fase di editing incollare insieme le parti di dettaglio eliminando le parti chiuse si parla di fusioni di livelli il concetto è simile per le immagini hdr anche se la modalità di ottenimento è diversa si parte dal solito bracketing ma poi si usa il ton mapping per arrivare a un'unica immagine con alto range dinamico non affronteremo la modalità con cui facciamo gli hdr nei vari programmi perché voglio rimanere sul piano teorico tutto questo ci fa pensare che se anche vediamo una cosa come bianco puro o nero assoluto non è detto che non ci possa essere qualcosa di ancora più bianco o più nero lo abbiamo appena detto la parte dell'immagine che con esposizione sembrava bruciata con alta esposizione rivela particolari quindi c'è qualcosa oltre valori di bianco puro della precedente esposizione ma limitati dal range dinamico possiamo verificarlo solo cambiando l'esposizione se questo è possibile ovviamente come potete vedere il concetto di limite del bianco e del nero non è affatto banale ha senso parlarne solo entro i limiti di un determinato sensore o di un monitor più precisamente si parla di punto del bianco e punto del nero ed è pratica normale modificare questi valori durante una color correction ma per lavorare oltre limiti chiamati super bianco e super nero occorrono le immagini hdr prendiamo un'immagine generata in blender ad alta qualità così risulterà senza le limitazioni di range dinamico che si avrebbero digitalizzando un'immagine reale infatti in blender possiamo darle l'estensione di gamma che vogliamo noi in pratica usiamo il floating point esaminiamo questa immagine e notiamo che alcune zone sono bruciate cioè bianco puro noi sappiamo che l'intervallo della luminanza di ogni singolo canale va da 0 a 1 ma nel nostro specifico caso avendo usato il numero a virgola mobile non abbiamo questa limitazione e possiamo avere anche numeri maggiori di 1 o minori di 0 però non riusciamo a vedere lo stesso i dettagli delle parti saturate perché anche se l'immagine contiene valori maggiori di 1 il nostro monitor non è in grado di visualizzarli e mostra sempre lo stesso identico bianco cioè 1 l'importante è capire che questi dettagli ci sono anche se non riusciamo a visualizzarli poniamo per esempio che ci siano zone con un valore di 2 alte di 1 e 5 e tutte le altre comprese fra 0 e 1 le zone con valore 1 1 e 5 e 2 appaiono tutte come lo stesso bianco puro per riuscire a visualizzarle possiamo fare un'operazione matematica di dimezzamento dei valori in modo da farli diventare la metà si ottiene cioè 2,0 diviso 2 uguale 1 1,5 diviso 2 uguale 0,75 1 diviso 2 uguale 0,5 e così via per tutti gli altri valori adesso il monitor riuscirà a visualizzare tutte le zone quella 2 diventerà 1 cioè bianco puro e tutte le altre le rispettive tonalità di grigio 0,75 0,5 nel nostro esempio ecco allora confermato che l'immagine di tipo hdr e contiene informazioni anche sopra all'intervallo 0,1 ma lo stesso discorso può valere anche per i numeri negativi ovviamente è importante notare che occorre un'immagine hdr per avere questo risultato se partiamo da un'immagine cosiddetta fixed point cioè limitata all'intervallo 0,1 dimezzare i valori porta ad un oscuramento omogeneo dell'immagine e quindi le zone di bianco omogeneo diventeranno zone di grigio omogeneo ma non mostreranno dettagli perché non ci sono zone di diversi valori che possono differenziarsi dopo il dimezzamento infatti quello che accade è che 2 diventa 1 clipping 1,5 diventa 1 sempre il solito clipping 1 diventa 1 così via e tutto il resto viene dimezzato come si vede si ottengano vaste zone omogenee di grigio sempre senza dettagli le immagini hdr occupano molto spazio e richiedono sistemi più potenti per essere trattate poche usano campionamenti in virgola mobile ma oggigiorno si stanno diffondendo sempre di più ed è facile ipotizzare che diventeranno lo standard in futuro da quel che ho detto finora sembrerebbe che floating point e hdr siano in stretta relazione ed è così ma non esattamente così per realizzare un'immagine hdr è necessario usare campionamenti in floating point al contrario si possano lavorare in virgola mobile anche immagini in partenza a fixed point cioè limitate all'intervallo di normalizzazione gestirle è più pesante è vero ma permettono di perdere meno dati nei vari passaggi di manipolazione dell'immagine diminuendo la probabilità di comparsa di artefatti quindi può avere la sua convenienza lavorare sempre in floating point se ce lo possiamo permettere in termini di hardware ovviamente bene questo video è stato più corto del normale ma il prossimo sarà più succoso parleremo infatti di formati e di codec